ciao a tutti e come sempre ben trovati bentornati benvenuti se siete nuovi sul canale siete su Cartomantic dove tutto quanto è l'enorma e oggi vedremo di capire che intenzioni ha la persona la quale state pensando sulla vostra storia naturalmente dando per scontato che esista almeno un minimo di storia ma poi allargandoci a tutte le possibilità quindi dalla storia che sta per nascere a quella che è appena nata quella che magari invece stanno andando avanti da un po' con più o meno problemi nel frattempo vi ricordo che come sempre sono stese letture rivolte a tutti senza distinzione di genere o di orientamento che per comodità utilizzeremo come segnaposto la carta 29 della dama per rappresentarci tutti e che come sempre negli interattivi ci sono due varianti oggi abbiamo il sole e le stelle per un po' di ottimismo e anche per vederci chiaro e capire le intenzioni no quindi potete naturalmente scegliere come preferite o così a sentimento o anche mettendo il video in pausa e una volta fatto trovate il link diretto alla parte che vi interessa nella descrizione del video nella descrizione del video trovate anche tutte le indicazioni se volete chiedere una consulenza e anche riferimento diretto al sito dove trovate altre cose come per esempio le date dei corsi che ricominceranno appunto subito dopo pasqua quindi fra pochissimo visto che ci siamo almeno se state ascoltando il video nel momento in cui proprio l'ho messo su youtube che altro dire niente mi scrivete in molti ancora per segnalarmi che le carte queste qui ci sono anche su aliexpress io vi ringrazio della segnalazione tutto quello che posso dire che si vede che piacciono tanto che c'è chi ha trovato il tempo di imitarle quindi io non posso farci niente ne voglio fare niente perché sinceramente capita a tutti quindi capita anche a me pazienza tanto poi potete scegliere anche voi dove preferite comprarle ovviamente da una parte sono in un mondo dall'altro sono una copia ma mica sono un picasso cioè anche se prendete l'imitazione sono sempre loro quindi non mi mettono l'intenzione di mettermi di traverso anche se ovviamente vi ringrazio tantissimo per le segnalazioni a questo proposito vi ricordo che sempre lasciando naturalmente a voi la libertà di scelta se volete consulenze con me se volete fare i corsi con me il riferimento è questo e il sito cartomantic.com tutte le altre genere di consulenze che potreste trovare consulti telefonici o altre cose a mio nome non sono io cioè io quello che faccio è quello che trovate nella descrizione del video e quello che trovate sul sito al massimo sui social quindi su instagram e su facebook dove sono come cartomantic e basta e lo capite dai riferimenti che ci sono ai video sul canale poi se c'è qualcuno di bravo che clona anche quelli beh insomma voi sapete che l'unico modo per esempio per avere una consulenza con me è o su visio o da sito cartomantic.com tutto il resto siete liberissimi ci mancherebbe altro di chiedere consulenze a chi preferite ma non non sono io se in altri modi pensate di chiederla a me non sono io ok quindi poi a me dispiace perché io continuo a dirlo continuo a dirlo ma evidentemente qualcuno che magari non ascolta non ha sentito e incorre in qualche situazione cioè io lo dico sempre e quindi sono qui quindi chi mi vuole sa dove trovarmi benissimo allora detto questo andiamo avanti e direi che possiamo iniziare con la prima variante dobbiamo cercare di capire quali sono le intenzioni di questa persona rispetto alla vostra relazione e frequentazione come sempre per vedere di che cosa si tratta quindi a chi si rivolge questa prima variante andiamo a tastare un po il porso della situazione allora qui c'è bisogno di ripulire quindi non vuol dire che vuole ripulirvi dalla sua vita ma è una situazione insomma dove ci sono un po troppe cose c'è un po di confusione bisogna ripulire un po il tutto quindi teniamocela lì per ricordarcelo vediamo di che cosa stiamo parlando in questo senso cos'è che c'è da ripulire cerchiamo di capire un po quelle vostre energie qui addirittura si erano messe di traverso cioè non è che si erano lasciate io di traverso allora vediamo quella voleva proprio uscire adesso vediamo prima al taglio allora mentale cambiamento qui bisogna per forza questa è una situazione che ha bisogno di un cambio energico vite anteriori allora bisogna ripulire ciò che c'è nelle vite anteriori nel senso che al di là delle considerazioni sul fatto che potrebbe essere appunto un rapporto di tipo elettivo certo non favorevole ma perlomeno sul presente qui c'è un mentale con un cambiamento il cambiamento riguarda ripulire qualcosa che fa parte del vostro passato le intenzioni almeno così come prima impressione sono fortemente vincolate a questa energia questa necessità di togliere qualcosa di torno c'è un qualcosa di tossico in questo rapporto che poi può essere anche qualcosa di molto debole però qua esce ovviamente come sapete le energie si esprimono sempre con le maiuscole vuoto ricettività arca voi siete messi così voi non sapete proprio cosa pensare c'è qualche cosa che percepite che non vi convince come se sentiste che in questo momento ultimamente dall'altra parte si siano un po attenuate le energie anche l'entusiasmo anche l'intraprendenza cioè sentite che in questo momento dall'altra parte c'è proprio un calo di energia e ovviamente questo vi mette davanti alla necessità di capire di scegliere di decidere anche che cosa fare quindi se vale la pena di continuare a dare così attenzioni a questa persona bisogna vedere chi ha bisogno di ripulire che cosa qui abbiamo allora le energie su questa persona non sono proprio limpidissime nel senso che le energie sono rimaste qui quindi effettivamente quello che sentite è vero ultimamente c'è stato da parte sua come un non tirarsi indietro però una battuta d'arresto non nel cercare di costruire qualche cosa nasconde qualcosa vedete che abbiamo proprio la politica sulla vostra ricettività è come se cercasse di schermare qualcosa per non farvelo arrivare e qui dove voi non sapete cosa pensare c'è proprio il suo allontanarsi su lasciare andare direi che in questo momento questa persona sta facendo i conti con qualcosa del passato di cui vuol farvi sapere il meno possibile perché spera di risolverla prima che tutto questo diventi un problema quindi se sentite questa specie di distacco è semplicemente perché sta cercando di risolversela da sola e spera allora le possibilità ci sono di mettere le cose abbastanza in ordine su un futuro cioè certamente queste non sono energie di una persona che vuole girarvi le spalle e sparire dalla vostra vita però c'è qualcosa che o vi ha detto parzialmente o non vi ha detto che riguarda il suo passato e quindi questo è da ripulire che in questo momento sta disturbando non poco le sue energie e quindi per questo potreste sentirlo un pochino così distante in pratica continua magari a mantenere un atteggiamento positivo con voi ma che è evidentemente meno così meno preso perché le sue pensieri sono altrove sta cercando di risolvere qualcosa di cui non vi ha detto tutto questo non vuol dire assolutamente che vuole ingannare ma semplicemente magari che spera di risistemare le cose senza che con voi debba esporsi al cento per cento e infatti qua è tagliare per rinascere e di fatti qua abbiamo un dieci di spalle cioè sta cercando di chiudere una situazione nella sua vita personale in modo da allontanare anche tutto quello che di doloroso comporta per poi appunto dare luogo a una nascita creatività nuova visione cambiare proprio prospettiva tra voi due così a occhio molto semplice come prima cosa pensare a una persona che deve chiudere una situazione passata che magari così sulla carta è già chiusa però poi sapete che insomma a volte non basta dire che due persone si lasciano per escludere subito un'altra persona dalla propria vita quindi qui secondo me c'è un ex attaccato al calcagno che non bolla la presa o comunque delle questioni che possono ancora mantenere legate due persone e insomma questo può dare un po' di pesantezza al vostro rapporto noi siamo qua per vedere che intenzioni ha con voi quindi vediamo un po' eh si sta aspettando proprio che si aggiusti qualche cosa nel suo passato di trovare finalmente un equilibrio che adesso non c'è adesso c'è un pochino di calo nella vostra connessione per quanto alla fine la carta centrale ci dice che questa connessione c'è io qua la vedo più che altro in storie relativamente all'inizio ovviamente è poi si può estendere anche a tutti gli altri tipi di relazione però è come se questo problema riguardasse soprattutto almeno in questa variante situazioni relativamente giovani relativamente recenti o addirittura ancora in via di sviluppo che ancora come se non si fossero ancora sviluppate vediamo c'è proprio un qualcosa del passato come se fosse un conto di sospeso da mettere a posto con un'altra persona però con qualcuno che prima era al posto che adesso vorreste per voi vediamo e difatti abbiamo la luna qui c'è proprio qualcosa che non sapete appieno ecco non sto dicendo che non vi hanno detto nulla perché per carità forse vi ha fatto la situazione un pochino più semplice di quello che in realtà è io qui vedo più che questioni pratiche proprio un'energia un po' suddola di qualcuno che non accetta di essere messo da parte quindi questo anzi in un certo senso anche sicuramente non va mai piacere depone a favore di questa persona perché è una cosa che succede su malgrado non è tenere il piede in due scarpe ma trovarsi a fare i conti con una presenza che dovrebbe già essere fuori dalla sua vita ma che ha delle difficoltà ad accettare la cosa quindi le intenzioni per adesso sono ancora di un pochino così offuscate ci sono ma è come se rimandasse una programmazione più precisa al momento in cui questa persona sarà fuori di qui vediamo un attimo in queste cose queste cose la legge ai so perché vogliono farsi sentire vediamo un attimo sono uscite così vedete che questo è proprio raffreddato qui c'è indecisione prendiamola l'ultima è qualcuno prima di voi qua evidentemente eh sì qualcuno che con l'idea di restiamo amici non si stacca questa è proprio la classica posizione dell'ex che dice restiamo amici anche se non c'è più nulla tra di noi fa niente eh però è un restiamo amici sulla parola ma non nei fatti questa è una persona che non sta accettando il fatto che qualcuno prenda al suo posto e quel qualcuno siete voi eh la persona che voi avete in mente si trova in questo momento proprio un bivio ed è questa schezofrenia non che non sappia decidere e che l'altra persona sia ancora in gioco ma lui vuole fare le cose per bene quindi chiudere per cominciare l'abbiamo visto anche nel taglio no? le parche anzi quella parca lì e poi l'uovo dischiuso quindi devo chiudere per cominciare poi probabilmente avete già cominciato magari questa storia sta già andando bene però avete notato ultimamente un calo appunto di entusiasmo comunque di dedizione di intraprendenza è perché più l'ex sente che sta diventando sempre più ex più incombe e quindi questa persona vuole assolutamente lasciarsi poi la situazione pulita alle spalle poi con voi va avanti lo stesso ma è molto disturbata da questa situazione che ha quindi vediamo un po' allora io su questo è vero che il taglio come sapete non è la risposta quindi assolutamente non possiamo prenderlo per buono anche se mi piacerebbe molto perché se questa fosse la risposta sarebbe una cosa fantastica no? che intenzioni ha? intenzioni di trovare un equilibrio più possibile duraturo che già sente esserci con voi diciamo che però questo taglio ci garantisce il fatto che non state rischiando niente nel senso non c'è neanche la benché minima possibilità che ci sia un paragone tra voi e l'ex sta di fatto che questo ex è un po' lì col fiato sul collo quindi intanto che vediamo che intenzioni ha a questo punto speriamo che esca che intenzioni ha riguardo all'ex perché con voi perché con voi è chiaro ci portiamo a casa questa energia super positiva no? che ci mette al riparo da possibili sviluppi vediamo un po' e caspita cioè più chiaro di così che cosa ha sulle spalle l'altra persona che vi ricordo è rappresentata sempre da questa parte da questa carta è il peso di una relazione passata quindi qui vediamo a vedere cosa ci dice qua beh diciamo che non se l'aspettava una cosa del genere non se l'aspettava qui c'è stato ultimamente come una rincorsa agli armamenti da parte di questa ex di questa persona del passato che ha ricominciato a diventare incalzante non in modo come dire lateralmente seduttivo no? però sta continuando sempre di più a marca stretto prima era un messaggio ogni tanto poi un messaggio ogni meno poi la telefonatina poi chiedere consiglio su una cosa solo tu sai come si fa posso chiedere a te in fondo con quello che c'è stato tra di noi e oggi domani dopo domani e qui la speranza dell'ex è di riuscire a far compiere un cambio di rotta alla persona che invece adesso avete o volete accanto a voi sta facendo molta pressione su appunto su quello che c'è stato in nome di quello che c'è stato tra di noi in modo da poter agire anche insomma sfrontatamente ma sempre con l'alibi del non andrei mica a pensare che ecco no? si sta facendo un po' scudo di quello che c'è stato col ricattino morale subito pronto nel taschino davanti appena arriva un no non mi compete non è più cosa mia non arrangiati cosa che lui o lei dicono subito dire ma scusa non starei mica pensando male in fondo ti sto chiedendo solo questo in nome di quello che c'è stato avete capito il tipo di persona quindi questo è quello che va ripulito per capire che intenzioni ha anche se io quello che vedo già adesso è che le intenzioni sono proprio di uscire da questo loop per poter fare non voglio neanche dire seriamente con voi perché non è una questione di serietà ha proprio voglia di fare seriamente ha proprio voglia di mettere in piedi qualche cosa anche in modo ufficiale se vi state chiedendo se c'è la possibilità se tende eventualmente anche a sperare in un rapporto ufficiale sancito magari anche da un pezzo di carto comunque una convivenza o qualcosa che punti là assolutamente sì peccato che qui abbiamo proprio nel passato urca qualcosa che è finito è finito cioè è finito è andato prima scemando e poi è finito ma gli sta un pochino bloccando l'azione allora che intenzioni ha primo ribadisco il fatto che se non vi ha detto tutto sulla difficoltà di questo problema è solo perché spera di chiudere di portarsi a casa il risultato senza coinvolgervi troppo un po' anche per paura che voi vi possiate scocciare in realtà la cosa sta diventando più grande di quello che pensava pensava di poter parlare chiaramente con questa ex di poter spiegare che le cose nel caso ci fossero dei dubbi erano definitivamente concluse e che quindi non c'era spazio per un possibile revival che andava bene restare amici ma amici basta adesso sta iniziando a cambiare un pochino tono nel senso che sta prendendo coscienza col fatto che parlare con le buone non serve a niente quindi i rapporti con quest'ex stanno diventando un pochino più crudi molto più schietti e quindi a volte anche un pochino pesanti nel senso non dico discussioni ma se non la capisci con le buone te la spiego un po' meno con le buone ecco quindi ha tutto questo vissuto quando non siete insieme questo è quello che non vi dice soprattutto il clima che è venuto a instaurarsi con questa persona si sente anche un pochettino preso in giro nel senso che si sta dicendo se non ci fossi cascato non saremmo a questi punti quindi sta risolvendo nel suo privato questa storia potrebbe avervi fatto accenno alla presenza di questa ex nella sua vita ma sicuramente non vi ha detto tutto in termini di pesantezza di rotture di scatole di tentativi di intromissioni nella sua privacy potrebbe addirittura essere che questa ex stia cercando anche di diciamo spiare di capire qualcosa in più su di voi e da parte sua della persona che avete in mente c'è anche la grande preoccupazione di non farla interferire di non farla venire a disturbarvi le intenzioni ovviamente sono una volta tolto di mezzo questo problema una volta effettuato una scelta che sia quella è quella di proporvi o comunque di comportarsi in modo da farvi vivere una relazione seria cioè se avete paura che da parte sua ci sia un ripensamento no no questo non è un ripensamento questo è che magari vi può sembrare un pochino più freddo perché quando vi vedete è ancora l'energia che usa di là cioè veramente si sta impegnando per cercare di chiudere definitivamente con quest'ex non non parliamoci più ma anche continuiamo pure a parlarci ma non in questi termini stai fuori perché stai esagerando questo in questo momento è come se cercassi di accompagnarlo più o meno gentilmente alla porta fuori dalla mia vita chiudo la porta se vuoi poi ci sentiamo coi piccioni viaggiatori questo è l'intento quindi può darsi che quando vi vedete o vi sentite un po' di questa tensione voi la percepiate però state certi che non è per voi anzi le intenzioni nei vostri confronti sono di assoluta sincerità ha capito che avete capito che non è un bel momento ha capito che rischia di apparire una persona fredda e che quindi voi attribuiate questa freddezza a un calo di sentimenti di coinvolgimento ecco perché ha una grande fretta di fare chiarezza di superare questo bivio e venire nella vostra direzione potrebbe anche darsi che tra i vari problemi con quest'ex ci sia di definire proprio legalmente un divorzio una separazione e che magari adesso visto questo clima voi vi state chiedendo se magari non ci arei pensato no il problema sta dall'altra parte è dall'altra parte che non c'è l'accettazione di questa cosa e potrebbe essere peggiorata un po' la situazione proprio perché tra voi si sta facendo più seria e quindi finché si scherza va bene ma quando vede che fate sul serio l'ex tira un po' sulla cresta e non ci sta di essere messo un po' fuori dai giochi ok quindi il suo atteggiamento di adesso non dico di non di non notarlo perché è piuttosto difficile non notarlo visto che c'è però non vuol dire che abbia cambiato idea soprattutto le intenzioni sono serissime purtroppo in questo momento possono non sembrare così ma non è questo il punto quindi non ci sono altre persone in modo serio c'è una presenza che disturba ma che oserei dire non solo non va a interferire nelle intenzioni serissime che quest'uomo questa donna che amate ha nei vostri confronti ma semmai dà una marcia in più perché alla fine diventa talmente vessante che non vede l'ora di levarsela dai piedi quindi assolutamente toglietevi dalla testa che sia un problema di calo di interesse o di cambio di opinione ha intenzioni guardate serie quasi addirittura pure troppo magari se come ho visto questa storia è un po' agli inizi cioè sarebbe anche un po' prematura iniziare a pensare a una vita insieme a una convivenza eppure ci pensa ci pensa anche perché fa il paragone con quello che ha vissuto in precedenza quindi sono intenzioni super serie di costruire una relazione solida insieme l'unica cosa è questo velo di mancanza diciamo di totale sincerità ma è soltanto un non coinvolgervi in qualcosa di fastidioso perché se potesse vi direbbe tutto non vuole perché non vuole appesantire tutto però sappiate che si sta muovendo in modo da escludere definitivamente questo problema dal vostro mondo quindi non ci sono altri problemi direi che questo non è piccolo ma è da risolvere e intende risolverlo ecco perché c'era quell'energia di ripulitura questo è il motivo io direi che mi terrei per buono queste intenzioni cristalline direi no serie e determinate quindi state tranquilli ok bene quindi se avete scelto il sole spero con questo che la stesa vi abbia rassicurato e vi abbia dato magari anche un po' più di entusiasmo come sempre vi invito a mettere like iscrivervi al canale a seguirmi su instagram e su facebook e come sempre vi faccio un enorme bocca al lupo vi ringrazio vi do appuntamento la prossima volta qui con Maria su carta mantica ciao variante delle stelle vediamo che intenzioni ha la persona che avete in mente nei vostri confronti quindi dove pensa di arrivare con la vostra storia con la vostra frequentazione insomma vediamo anche adesso di quale tipo di relazione stiamo parlando se è qualcosa sul nascere se è qualcosa che sta andando avanti da un po' che presenta problemi insomma magari diciamo che quando non ci sono problemi difficilmente si ricorre a interrogare le carte però magari è anche solo curiosità e mi auguro che tutto stia andando benissimo vediamo un po' cosa abbiamo qui direi di no direi che non sta andando benissimo qui ma non è detto che sia da parte vostra questa energia potrebbe benissimo parlare di anzi malissimo parlare dell'altra persona questa è un'energia di abbandono quindi prima di decretare che le persone abbandonate siete voi vale veramente la pena di guardare più a fondo queste energie sicuramente non è un'energia di partenza entusiasmante però come sapete molto bene a volte anche le energie più così più torbide a volte giocano a nostro vantaggio perché dipende a chi appartengono quindi controlliamo subito le vostre rispettive energie le vostre quelle di questa persona e anche come lavorano tra di loro vediamo un po' guarigione allora questa è una situazione innanzitutto che è in pausa quindi anche se voi avete la sensazione che sia tutto finito no è solo rimandata è una situazione che ha bisogno sicuramente di tempo quindi questo indipendentemente da quello che uscirà e adesso questa situazione invece secondo voi e probabilmente ora controlliamo ma anche per l'altra persona è una situazione senza via d'uscita cominciamo subito con una bella notizia è solo una sensazione non è senza via d'uscita anzi ci vuole però del tempo ci sono cose che devono maturare e purtroppo siccome noi non possiamo sapere sempre e subito che cosa ci prepara il futuro ci sono momenti della vendita che ci sembrano particolarmente bui come questo ma vi dico subito che non è vediamo un po' anche qua rallentamento vedete che nostalgia anche qua allora io dico che secondo me per quanto voi adesso magari stiate soffrendo io mi auguro sempre che sia un'altra persona però se una situazione è in pausa ed è una situazione forte con dei sentimenti in gioco molto forti è inevitabile che adesso se c'è la pausa voi percepiate il distacco e la pausa vi sembri troppo ottimisti direi però che dentro di voi voi sentite che lo so che sembra una frase fatta ma in questo caso è vero c'è stato qualcosa di troppo forte perché sia definitivamente stato cancellato dall'universo no? qualcosa è rimasto lì e voi questa cosa la sentite ancora la sentite per voi e la sentite anche per l'altra persona ecco perché chiedete le intenzioni siete qua ad ascoltare le intenzioni perché sentite che comunque ancora qualcosa bolle in pentola certamente in questo momento di pausa siete molto rivolti al passato quindi state rimuginando e anche magari indulgendo nei ricordi per avere la prova di quello che in realtà sentite e cioè che non può essere finita così ah ecco perché mi stavo già arrabbiando allora io quello che direi qua è che si dice sempre che le responsabilità sono metà e metà 50 e 50 però qui l'elemento che ha fatto scattare questa rottura non è partito da voi è partito dall'altra persona potrebbe esserci un tradimento un tradimento o la necessità in un certo periodo della storia o della frequentazione di quello che volete di avere un po' di libertà d'azione quindi magari non per forza rivolta a una terza persona ma quei momenti in cui si dice voglio la mia libertà e quindi come dicevo qua il distacco o comunque il nascere di queste energie che poi hanno portato al distacco è da imputarsi all'altra e non a voi la cosa incoraggiante perché fino adesso detta così sembra che di incoraggiante non ci sia niente che laddove voi sentite che c'è ancora un legame che quindi non può essere finita qui coincide proprio con questa carta che fa appello alla coscienza di questa persona quindi è finita la pacchia diciamo è finito il momento così che io chiamo i momenti lucignolo per chi conosce Pinocchio e adesso si sta ritrovando a fare i conti con la solitudine e anche con il comportamento scorretto che ha tenuto da qui a riconoscere e fare marcia indietro ce ne basta ma se non si passa di qui non ce n'è anche tutto il resto quindi siamo in un momento molto importante che intenzioni ha adesso adesso rivediamo che intenzioni ha però vi devo dire che questa stesa si preannuncia parecchio interessante nel senso che così come voi state rivivendo i momenti del passato per avere la conferma di quello che sentite ciò che non può essere finita qui quindi voi per quanto tristi state traendo forza dai ben ricordi no? magari vi fanno male però state pensando le cose belle questa persona è veramente arrivata giù in mezzo nello strapiombo e sta facendo il paragone tra guardate quanto è chiaro passato quanto stava bene presente quanto sto da cani è un otto di spade voi sapete che per quanto io ammio lo shuzen ci sono alcune carte sulle quali dissento perché trovo l'interpretazione un po' limitata e questo è uno di quei casi cioè questo è un otto di spade quindi sicuramente sente la colpa sente il rimorso soprattutto perché l'abbiamo in concomitanza con la sua energia di presa di coscienza quindi è abbastanza scontato però l'otto di spade è anche quella carta che nei tarocchi tradizionali nei Rider Waite ci parla di quella figura che non ha possibilità di muoversi che non è come se fosse proprio così surgelata in quella posizione non sappia dove debba andare in questo caso per stare meglio non si tratta di un'immagine positiva quella persona intrappolata nelle sue stesse azioni nelle conseguenze anche delle sue stesse azioni queste sono le vostre energie insieme quindi come dicevo mentre voi siete intrappolati diciamo così nel passato ma state appunto indulgendo nei ben ricordi questa persona è intrappolata nel passato perché vorrebbe non essersi mai mosso da là adesso dopo essersi preso questo momento così di svago quindi non è che stiamo facendo paragone chi sta meglio chi sta peggio e anche paura di non poter tornare indietro che voi ne siete andati da qualche altra parte non per forza con qualcun altro cioè è talmente forte qui la desolazione che pensa magari piuttosto che con me se ne sta pure da sola nella sua mente nelle sue energie perché quello stiamo guardando una possibilità di riconciliazione è vista come qualcosa di molto difficile perché deve fare i conti con le azioni che hanno condizionato il vostro passato recente cioè con il suo comportamento qui sta dicendo se anche è rimasto il sentimento io cosa posso fare con quello che ho combinato queste sono inequivocabili vediamo un po' è io che volevo fare in futuro di nuovo l'interattivo se si era pentito qui abbiamo già una risposta oh energia di chi spesso dice ma si non guardo in faccia nessuno non ci penso e faccio tento il tutto per tutto ci riprovo senza doverci pensare troppo e poi mentre immagino la cosa vi vede così no impescrutabile incorruttibile e soprattutto respingente una parte dentro di sé ha già decretato che non c'è recupero per questa storia quindi le intenzioni quando sono spontanee sono di tornare a bussare e a dire sono qui facciamo finta di niente per ora stiamo parlando di intenzioni molto basate sull'energia quindi nulla di così di programmato però sente anche in questi impulsi vi sente lì ad aspettarlo col mattarello sulla porta dicendo a sé è dove vorresti andare sente che sarebbe giusto che sente di meritarsi un atteggiamento respingente da parte vostra così vi vede oh oh no come chi tutto sa quindi vi aggiunga anche che se per caso per un attimo nel passato ha pensato che così magari qualcosa non vi era giunto all'orecchio magari se ne è andato dicendo non mi meriti in realtà avevo un appuntamento 20 minuti dopo cioè sappiamo benissimo che succedono queste cose ora sa di essere stato smascherato quindi se anche c'era una storia che vi ha negato al momento con un'altra persona ormai sa che tutte le sue frottole sono venute alla luce e che voi silenziosamente le custodite come per dire prova a venire a raccontarmi un'altra frottola che ci facciamo quattro risate ora voglio proprio vedere che intenzioni ha perché sulla base di queste energie andiamo a vedere le intenzioni quindi sono molto curiosa ovviamente andando a vedere che intenzioni ha non facciamo una previsione di come poi andrà vediamo che intenzioni ha come spesso accade queste stese hanno proprio lo scopo di iniziare a prepararci il terreno e poi siamo noi ad agire o ad accettare le azioni altrui o a rifiutarle vediamo cosa ci dice Roger bravo andava tutto benissimo che cosa cavolo mi è venuto in mente ho buttato via l'occasione della vita adesso è tutto incerto tutto bloccato tutto difficoltoso me la sono andata a cercare vi aggiungo che questa persona vi pensa in modo quasi ossessivo cioè c'è una pesantezza nel pensare al vissuto come abbiamo visto dal resto nelle prime energie e c'è anche rabbia perché adesso come se si fosse svegliato dopo una sbronda si rende conto di come ha buttato via un'occasione importante dicevo inizialmente cerchiamo di capire se si tratta di una storia magari in questo caso buttata alle ortiche all'inizio o se è qualcosa invece che è successo dopo un lungo periodo di relazione diciamo che qui non ci sono indicazioni quindi può valere per tutti anche per quelle frequentazioni che stavano diventando una relazione e non lo sono diventata l'unica cosa sulla quale mi concentrerei è che c'è qualcosa da ricordare c'è qualcosa da rimpiangere poi a volte anche solo due giorni a vedersi davanti un caffè sono così intensi che equivalgono anche a una storia di anni però ricordo che qui è il lato fondamentale per capire se appunto mi riguarda è che ciò che è stato qualunque cosa sia ripeto anche magari un incontro però ha avuto un'intensità tale per cui c'è materiale da rimpiangere tanto quindi magari bastano cinque minuti e la connessione è così forte che è come un falò se cerchiamo di razionalizzare un po' questi indizi direi che la prima situazione che mi viene da considerare è una situazione con un certo lasso di tempo vissuto come relazione però appunto tenete presente che a volte insomma qui poi il tempo si basa esclusivamente quasi esclusivamente sull'intensità quindi è un altro concetto di tempo per cui può essere veramente tutto però insomma per me è più una relazione medio-lunga qui che è andata a farsi friggere e di fatti c'è quella carta iniziale di energia dell'oracolo che è molto pesante proprio qualcuno che di colpo si ritrova senza qualcosa a cui ormai aveva fatto abitudine dove l'abitudine in questo caso è qualcosa di positivo andiamo a vedere che intenzioni ha è io ve l'ho detto qui è qualcosa che è durato parecchio parecchio potrebbe addirittura trattarsi di un matrimonio che a un certo punto si è che è andato in frantumi addirittura anche questo è un legame stabile rassicurante di vecchia data che fino a un certo punto è andato bene e adesso viene a mancare proprio la sicurezza che dà la presenza dell'altra persona in questo momento ripeto è di magrissima consolazione fare paragoni chi sta meglio chi sta peggio però se già voi magari vi sentite male a riguardo sappiate che l'altro sta molto peggio perché come abbiamo visto al 99% la responsabilità di questo momento di pausa che tutti e due percepite come invece una rottura ahimè definitiva è stata sua il fatto scatenante poi certo se succedono certe cose è responsabilità di entrambi per carità qui l'energia è proprio di tornare ma con già la certezza di trovare la montagna che poi è questa carta qui e questa carta qui la consapevolezza di aver agito in modo avventato è quello che dà a questa persona la certezza prima ancora di muoversi che voi gli sbattiate la porta in faccia voi siete chiusi nella sua testa siete chiusi a qualunque tipo di approccio sa che avete una visione un'opinione di lui direi come di persona poco affidabile soprattutto in virtù di quanto avete vissuto insieme in passato è voi pensa che ormai voi non crediate più a mezza parola di quello che dice e quindi non sa come fare cioè l'intenzione è quella proprio di tornare non è perché c'è la nave qui prima che certo dà un certo tipo di energia e pensa che che intenzioni ha l'intenzione sarebbe quella di riprendere dove avete lasciato di prendere una gomma grossa così cancellare tutto quel pezzo e dire non è mai successo tipo man in black sparaflesciarvi e dire non è vero e tornare però le sue intenzioni sono in due direzioni da una parte sta pensando di fare così ma si autocastra nel momento in cui lo pensa dice che me lo sto dicendo a fare tanto non posso l'intenzione più spontanea qua è quella di prendere tornare e dire non è successo niente facciamo finta che non non ci sia mai stata queste interruzioni ricominciamo no e questa è l'intenzione spontanea in realtà qui conviene lavorare sulle intenzioni reali quelle che subentrano nel momento in cui sente questo rifiuto che non avete ancora fatto ma che secondo lui o lei è inevitabile no anche perché ragiona così dice io al suo posto non vorrei più vedermi ha proprio questa questa visione che se posso dire la mia non sono fatti miei ma visto che siamo qui non ha tutti i torti qui veramente ha mandato a scatafascio qualcosa di molto bello per un momento di sciocchezza un momento di superficialità che poi è andato via via scemando qui voleva un momento di libertà un momento di leggerezza prenditelo anche se proprio devi ma non così qui ha mentito vi ha tenuto in ballo ha negato insomma ne ha fatte un po' di tutti i colori fin tanto cioè diciamo che la visione da qui è come se si fosse preso il tempo necessario per capire e per divertirsi e poi adesso dice ok il tempo è finito mi sono svegliato cosa diavolo ho combinato aspetta che torno queste sono intenzioni diciamo che seguono il flusso delle sue energie se andiamo a vedere quello che razionalmente si sente legittimato a fare qua c'è un discorso anche di cercare prima di capire le vostre intenzioni perché magari mi sbaglio il fatto è che non sta trovando nessuno che sia disposto a dare una mano tranne forse una persona che potreste stranamente ritrovare sul vostro cammino attraverso la quale spera di avere qualche informazione qualche indizio vedere quanto potreste essere aperti a un ritorno del dialogo certo sa che in questo momento non c'è margine da parte vostra per ridare fiducia e anche per tornare al tipo di amore come era vissuto prima però le intenzioni sono di riparare quindi l'intenzione finale è riparare il guaio in modo spontaneamente sarebbe quello di far finta di niente dire dimenticati tutto via eccomi qui le intenzioni più concrete sono quelle magari di prepararsi un po' il terreno quindi potreste assistere a strane riapparizioni nella vostra vita di persone che non sentivate più inviti che mai avreste pensato di ricevere domande indirette che però sgamate immediatamente perché non è che siete nati ieri quindi l'intenzione è quella comunque di rimettere in piedi il rapporto ma di cercare di prevenire un rifiuto non dico che se sente energie negative non si muova lo fa lo stesso ma magari cambiando un pochino aggiustando un po' il tiro le intenzioni dopo sono quelle di mettere la testa a posto sempre per sempre e mai più sgarrare la lezione servita lezione che peraltro si è imposta da sola quindi almeno aveste avuto voi voce in capitolo voi siete limitati a dire ok se le cose stanno così cioè ok fino a un certo punto ma non vedo da parte vostra un accanimento di dirgli hai sbagliato hai fatto gliel'avrete anche detto a suo tempo ma adesso io vi vedo molto fermi a osservare semmai ad attendere voi sentite che la cosa non è finita ma non vedo che vi stiate muovendo in modo particolare per recuperare la situazione fate soltanto bene mentre questa persona adesso invece sta prendendo la rincorsa la rincorsa un po' disordinata ma certamente se dovesse decidere di riaprirgli la porta questa persona da lì non si vuole più diventa la persona più fedele del mondo almeno per quanto possa diventarlo diciamo che calano drasticamente le sue azioni come rubacuore o come piaccione o piacciona perché ha capito che rischierebbe una seconda e ultima volta quindi le intenzioni sono di tornare all'ovine e mai più sgarrare queste le intenzioni finali al momento le intenzioni di percorso sono molto vincolate a quello che riuscirà a capire quindi su questo costruire un piano di rientro ecco quindi potreste essere oggetto di attenzioni da parte di persone che avete magari visto tre volte in vita vostra perché sono messe sotto da lui o da lei però io direi che quello che importa maggiormente in questo momento è poi alla fine dove vuole andare quindi quelle sono intenzioni finali e guardate così non ci vuole restare più ora sta così abbiamo un sentimento fortissimo abbiamo una crisi che vuole assolutamente superare per ritornare e mettere insieme questa relazione ha una paura folle che questo intento possa non andare a buon fine e doveva pensarci prima perché ovviamente adesso poi sta tutto a voi nel senso che se volete che torni basta dirlo se non volete questa persona può fare anche capriola con doppio avvitamento ma non volete certo che vi fidate molto poco molto poco e io non so come darvi torto vediamo come va se come appunto è il caso di questo interattivo volevate capire che intenzioni aveva se magari era un altro modo per prendersi gioco di voi no no qui ci tiene proprio tanto a rimettere in piedi la situazione vediamo vediamo poi cosa voi deciderete e allora il macello l'ha fatto adesso il pallino tocca a voi quindi sta a voi decidere questa persona sta così e queste sono le sue intenzioni ok dai è arrivato il vostro turno adesso quindi mi raccomando intanto se vi è piaciuto il video vi è servito mettete il like iscrivetevi se non l'avete ancora fatto tenete presente che qui c'è un bel margine di azione da parte vostra quindi insomma ogni tanto l'universo ci vede bene quindi nel frattempo io vi ringrazio vi faccio un enorme bocca al lupo forza e coraggio e vi do appuntamento la prossima volta che con me su Cartola Antica ciao